Raccolta differenziata nel comune di Forio. Parliamo con un cittadino e raccontiamo chi ha un ingombrante e lo vuole portare nel punto di raccolta. Come deve fare? Lei ha avuto un'esperienza? Come è andata? Allora, la legge dice che dobbiamo portarlo in determinati giorni, dalle 11 in poi, tranne il giovedì. La mia esperienza è... Volantino che spiega perfettamente gli orari e dice mi raccomando fate le persone civili, non li lasciate per strada. Allora, io sono andato una volta, un anno fa andai, portai due scaldabagni, uno piccolo e uno grande, e non volevano farmelo scaricare. E' andato nel giorno e nell'orario? Il giorno e nell'orario, concordato, però il centro era pieno. Lo riporti a casa? Quindi non potevo scaricare. Fortunatamente trovai un mio parente che lavora là, in quel settore, e quindi con questa raccomandazione, con questa riuscì a scaricare questi due aggeggi. Dopo un anno, circa un mese fa, ho avuto un'altra volta l'esigenza di portare delle cose al centro di raccolta. Di mercoledì alle 11 e mezza sono andato, il centro, il cancello chiuso, centro pieno, si era scritto fuori. Quindi mi sono riportato le mie belle cose a casa, ho telefonato e mi hanno spiegato che il centro era pieno e quindi dovevo attendere, dovevo aspettare. Era un segno di civiltà che io dovevo dare, perché io comunque, nel ritornare, avevo visto degli ingombranti gettati giù al parcheggio Cenerentola e esposi anche questa questione. E' sempre un fatto di coscienza della civiltà della gente. La risposta? Ho telefonato la settimana dopo per vedere se potevo andare a scaricare queste cose e la risposta era che era ancora pieno e quindi dovevo ritelefonare due giorni dopo e si è dato il caso che due giorni dopo non avevo la disponibilità della macchina per cui io dopo un mese non ho ancora potuto scaricare queste cose. E quindi poi a un certo punto la civiltà viene meno. E la civiltà di un paese viene anche, si profila, si vede anche, dipende anche dagli amministratori. La nostra civiltà è un segno della civiltà degli amministratori. Diciamoci la verità. Pare sarebbe stato più comodo passare di sera e lasciarlo lì. No ma anche di giorno, anche a mezzogiorno, perché io ho visto, anche l'altro giorno ho visto un furgoncino con quattro bustoni mezzogiorno che li ha buttati di fronte alla farmacia. Quindi non è che deve fare, perché non ci sono controlli, quindi non è che deve aspettare il buio. Invece lei, per un mese della sua vita, perché lei avrà una vita, avrà i suoi tempi, in alcune ore si rimette sulla cosa da portare, la riporta lì, la riporta a casa. Insomma, non tutti possiamo fare una cosa del genere. Esatto. Però lei deve essere civile. Io devo essere civile. E il signor Spadaro dovrebbe esserlo altrettanto, come anche il signor Di Maio. Perché ogni volta loro si barichano dietro questa frase, quella la gente è incivile, ma io non vedo da parte loro un segno di civiltà in questo campo, come in tanti altri campi.